Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un altro titolo di campione italiano di pesistica olimpica per il giuliese Joxe Narcisi, che al Biella Forum ha fatto l'unplane centrando i tre ori della sua gara nella categoria Under 17. Il giovanissimo atleta dell'Atlas Teramo ai campionati nazionali ha gareggiato da favorito in quanto campione in carica. E' lui stesso a descrivere la grande prestazione offerta pochi giorni fa nella massima rassegna nazionale. Ho vinto il primo posto alzando 106 kg in strappo e 126 kg in slancio, così da ottenere il primo posto. E' stata una gara non molto complicata, ero molto deciso e sono riuscito così a ottenere la vittoria. Un trionfo, quello che ha visto protagonista l'atleta abruzzese, frutto di anni di duro lavoro e di sacrificio. Mi alleno 5 giorni su 7, tralasciando il giovedì e la domenica. Ogni giorno parto da Giovanova e vado a Teramo, quindi anche un viaggio faticoso, per allenarmi, per seguire questa mia passione che è la pesistica, uno sport poco conosciuto che però grazie alla pesistica teramana e grazie ad Anselmo Silvino e il figlio Giulio Silvino, che stanno portando avanti questa disciplina, stanno comunque riscontando un successo. La vittoria per il 17enne Teramano è arrivata fra l'altro in un giorno speciale, ovvero in concomitanza con il compleanno del fratello maggiore Royal, anche lui attuale detentore del titolo italiano di categoria una famiglia, i Narcisi, ricca di campioni. Sono il campione italiano in carica di pesistica olimpica, nella categoria 96 kg, un titolo che ho vinto sollevando 140 kg di strappo e 181 kg di slancio, raggiungendo così il mio primo titolo italiano assoluto, dopo aver vinto anche il junior. è un obiettivo che pochi possono vantare in Italia.